Dopo nel ratto addospermico, quindi assenza totale di cellule della linea germinativa, l'infiltrazione di cellule staminali ha determinato un ripristino, quindi una ricrescita di tale popolazione cellulare e quindi un ripristino di una normale fertilità. Grazie professore, appuntamento alla prossima puntata con la rubrica TG4 Medicina, ora la linea torna allo studio.